La margherita da sfogliare in mano al sindaco Domenico Mersionese, una margherita formata da almeno quattro petali, ognuno dei quali ha una proposta per prendere in gestione il gelacalcio. Il primo cittadino ieri ha fatto una full immersion calcistica, lui che non è propriamente un appassionato di questo sport. Ha incontrato i potenziali acquirenti del club Biancazzurro, ha parlato con loro ed ha cercato di capire quali sono i programmi che ognuno di loro porta per subentrare alla famiglia Tuccio, la quale ancora ieri mattina ha confermato allo stesso primo cittadino che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Una delegazione formata dal presidente Francesco Tuccio e dall'ormai ex patron Angelo Tuccio, oltre che dal direttore generale Vincenzo Cannizzaro e dal direttore sportivo Giovanni Martello, si è legata in municipio ed ha incontrato il sindaco. La presenza in particolare dei due direttori è soprattutto servita per chiedere che il gelacalcio come squadra è ancora una struttura viva e vegeta. Nel senso che a parte il difensore centrale Strumbo e l'attaccante Biondo, passati rispettivamente al Francavilla e alla Cireale, poi tutti gli altri elementi della rossa sono tuttora dei tesserati del gelacalcio. Per cui, volendo, domenica Pomigliano d'Arco si potrà tranquillamente presentare una squadra di tutto rispetto per onorare il primo impegno stagionale in Serie D, ma non con la dirigenza Tuccio alla guida del club. Già da oggi, insomma, si dovrà sapere chi sarà a subentrare al timone della navicella bianco-azzurra. E come detto, sono quattro le opzioni sul tavolo. La prima è quella di un gruppo di imprenditori gelesi che da anni si sono trasferiti al nord e che vogliono fare questo regalo alla loro città natale. La seconda è quella dell'ex presidente Massimo Romano. La terza è una cordata nord-sud, formata cioè da un imprenditore gelese che vive in Lombardia e che farebbe da gancio per un gruppo calcistico che si muove in Sicilia. Ed infine quella che porta Franco Proto, storico presidente dell'Atletico Catania, che pare aver espresso un certo interesse su questa opportunità di acquisire la società gelese. Tutte trattative valide, ma che solo oggi potranno avere una svolta decisiva. Il sindaco messinese, a quanto pare, nella decisione finale vuole assolutamente coinvolgere la dirigenza Tuccio, come forse è anche giusto che sia. Ed allora non resta che attendere gli sviluppi che nelle prossime ore dovrebbero diventare fatti concreti. Si spera con una conclusione della vicenda all'ito fine che abbia la salvezza del Gela e della Serie D come pirogo.